L'importanza di essere oggi qui in piazza e per ribadire nuovamente, perché non è la prima mobilitazione che viene tenuta qui a Roma contro il genocidio in atto in Palestina, contro l'aggressione che sta andando avanti da quasi quattro mesi in Palestina e nello specifico nella striscia di Gaza, abbiamo ritenuto fosse importante essere oggi qui presenti comunque nonostante i tentativi di pressione che sono stati fatti nel corso degli ultimi giorni per sottolineare l'importanza di una chiara e netta presa di posizione da parte dell'Italia e rispingiamo al mittente le accuse e tutte quante le mistificazioni che nel corso degli ultimi giorni purtroppo sono state diffuse rispetto a posizioni antisemite quando ci troviamo diametralmente opposti a quelle posizioni e riteniamo che a maggior ragione sia importante oggi in questa data essere presenti qui anche per non rendere quella del 27 gennaio una giornata della memoria selettiva. Noi assolutamente rispediamo al mittente le accuse che sono state fatte appunto a questa mobilitazione e sottolineiamo nuovamente la necessità di una presa di posizione da parte dell'Italia rispetto a un cessato e il fuoco.